Crolla la produzione di olio ma la qualità resta eccellente. Un'annata magra nelle zone a maggior vocazione olivicola, male la Puglia che resta comunque polmone olivicolo nazionale. Ascoltiamo. Crolla la produzione di olio extravergine d'oliva italiano ma la qualità di uno dei prodotti simboli del Made in Italy resta eccellente. E' quanto emerge dall'indagine condotta dagli osservatori di mercato di CIA agricoltori italiani, Italia Olivicola e AIFO, associazione italiana Frantoiani Oleari, che fotografa un'Italia dell'olio spaccata in due con la produzione al sud in forte calo a differenza della netta ripresa rispetto allo scorso anno delle regioni centrali e settentrionali. La campagna che sta iniziando segnerà un netto meno 36% con una previsione di poco più di 235.000 tonnellate di olio extravergine d'oliva prodotte a fronte delle oltre 366.000 tonnellate della scorsa stagione. A trascinare al ribasso le stime saranno appunto le regioni del sud, da cui dipende gran parte della produzione italiana. Evidente il calo della Puglia, meno 51%, che risente in maniera pesante della ciclicità del raccolto. Con l'attuale stagione di scarica, a due anni dalla gelata, che azzerò la raccolta nelle province di Bari, batte Foggia destabilizzando le piante. Non si arresta il crollo nel Salento, flagellato dall'Axilella, dove si stimano 2.000 tonnellate di olio e un calo del 50% rispetto allo scorso anno. Puglia che, nonostante quest'annata difficile, resta il polmone olivicolo nazionale con le 101.000 tonnellate di prodotto stimate, pari al 44% della produzione italiana complessiva. Ora bisogna premiare la filiera agricola che si impegna nella produzione di un olio di qualità, garantendo prezzi più equi, adeguati e remunerativi, ha detto il presidente di Cia Agricoltori Italiani, Dino Scanavino. Quest'annata dimostra come non sia più rimandabile un piano olivicolo nazionale che consenta di impiantare nuovi oliveti e recuperare quelli abbandonati, ha dichiarato il presidente d'Italia Olivicola, Fabrizio Pini. Occorre un lavoro istituzionale condiviso per cercare di garantire su tutto il territorio nazionale e il giusto valore al lavoro dei nostri agricoltori. La qualità del nostro olio sarà eccellente, ma dovremo mantenere alta l'attenzione sugli attacchi della mosca con controlli capillari sui territori, ha sottolineato il presidente di AIFO, Piero Gonnelli. Siamo ancora lontanissimi dal soddisfare in toto il fabbisogno dei consumatori italiani e dovremo lavorare su questo nei prossimi mesi in sinergia con tutti i protagonisti della filiera.